Nostro Signore Gesù Cristo, fu coronato di spine, davanti a voi io scopro la testa, perché io sono il vostro servo. Prego. Se io parlassi con la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi carità, io diverrei simile a un qualsiasi strumento che emetta vuoti suoni. Se io avessi tanta fede da poter smuovere le montagne e non avessi carità, non sarei niente. Noi viviamo in tempo di crisi. Io non sono in grado di cambiare il mondo. Non posso alterare ciò che la storia ha già scritto. Io posso solo cambiare me stesso e cominciare con mano malsicura a scrivere un nuovo capitolo. Io sono il custode delle ricchezze della Chiesa e impegnerò tutto, tutto il patrimonio, tutti i tesori, terre, palazzi e grandi opere d'arte per il sollievo dei nostri fratelli affamati. E se per onorare questo impegno la Chiesa sarà costretta a ridursi in povertà, ebbene sia, non intendo ritirare questo impegno. E non intendo ridurlo. E adesso io prego i grandi della terra e i piccoli della terra di dividere la nostra abbondanza con coloro che non hanno niente. E non intendo ridurlo.